benvenuti benvenuti cari amici siamo ubiti in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un bel like e per cui siate generosi con i like oggi andremo a parlare di bitcoin ethereum polkadot cardano link uni ed alfa finance che sta volando progetto assolutamente da monitorare e per cui iniziamo subito la nostra analisi allora andiamo a vedere bitcoin che oggi fa un meno 4 per cento quindi ci chiediamo bitcoin riuscirà a tenere i 30 mila andremo a vedere anche questo ethereum meno 6 per cento polkadot meno 8 per cento xrp meno 5.2 cardano meno 7.7 chenic 8.5 litecoin meno 68 bitcoin cash meno 11 per cento tosta e binance meno un per cento iniziamo subito con bitcoin attualmente ci troviamo a 30 mila e 800 dollari quindi un bitcoin che sta tenendo vediamo come andiamo subito a vedere sulla 15 no su un'ora andiamo time frame ad un'ora e vediamo come bitcoin ha preso i 29 mila 2 41 per ora sembra tenere bene cioè sembra tenerli però è chiaro che siamo in un triangolo discendente penso che lo vediate proprio ad occhio si vede questa formazione naturalmente vediamola nel complesso secondo me è bearish ok non escludo che potremmo andare a prendere i 25 mila anche se per il momento sembra che per l'appunto i 30 mila stiano ottenendo abbiamo visto come più volte abbiamo tentato di andare a colpire i famosi 30 mila però però non riusciamo sostanzialmente a a buccarli quindi anche questo è un sintomo secondo me di un bitcoin che sta molto bene molti parlano dei 25 mila secondo me il bottom potrebbe già essere i 30 mila attenzione naturalmente se arriveranno i 25 mila ben venga dal mio punto di vista perché insomma io accumulo ogni mese i bitcoin quindi se mi va 25 mila ne potrò acquistare in maniera maggiore per quanto riguarda invece ethereum mi sembra che sia molto più salutare ok sicuramente rispetto a bitcoin abbiamo tutt'altro trend siamo ancora secondo me in fase bull perché siamo a 1270 attualmente vediamo come il grafico sia completamente diverso ed è chiaro ancora di più dal rapporto che io non ho però siamo a 0 0.4 quindi un ethereum che sta veramente tenendo egregiamente supportato naturalmente dalla media sette giorni della media 25 mila 99 mentre bitcoin come vedete sta sia al di sotto della media settimanale a 25 giorni che 99 quindi questo deve essere un campanello d'allarme ok per bitcoin probabile secondo me se ci sarà un bottom potrebbero essere i 25 mila quindi entrare in questa fase qua ok questa secondo me potrebbe essere un ottimale di buy sostanzialmente da una parte anche me lo auguro ok perché faremo un po di spesa se non dovesse arrivare comunque io al momento sono molto sbilanciato sulle altcoin che stanno andando molto molto bene per cui non non ho problemi quindi abbiamo parlato di ethereum che per me è salutare in questa fase supportata appunto le tre medie e penso che anche se bitcoin dovesse calare ok ethereum probabilmente calerà c'è quasi sicuro però secondo me non in maniera così marcata quanto bitcoin andiamo a vedere pulkadot pulkadot anche lui sta tenendo naturalmente aveva preso i 19 40 ora siamo in scarico diciamo facendo un confronto con ethereum vedo un pulkadot che potrebbe ritracciare anche fortemente parlavo giorni fa di 13 dollari e pian pianino ci stiamo avvicinando vedremo che cosa succederà cardano cardano anche lei sostanzialmente molto ma molto vicina sembra un po il grafico di polkadot se le guardiamo si molto ma molto simili e anche per cardano temo un eventuale nel caso di down di bitcoin anche su cardano vedo la stessa cosa sostanzialmente anche se cardano per l'appunto come polkadot è comunque supportato in caso in questo caso polkadot solo la media settimanale abbiamo qui solamente settimanale su po su scusate su cardano vediamo come secondo me il gap tra la media settimanale quella 25 giorni quella 99 sia molto forte quindi se bitcoin scarica occhio occhio andiamo a vedere anche chain link anche lei ha scaricato ma non così tanto ok come 32 secondo me comunque la defi sta vivendo veramente un momento d'oro se vediamo adesso andrò analizzare anche link uni veramente uni altra quindi a monitorare e alfa alfa sta facendo veramente cose spaziali tra l'altro mi devo ricordare di linkarvi sotto il video nel quale parlavo di alfa già mesi fa quando stava a prezzi veramente irrisori così vi fate un'idea ero anche all'inizio con i video comunque secondo me il link mi piace molto questa struttura che ha sostanzialmente secondo me potrebbe fare una cosa simile qua eravamo calati successivamente abbiamo fatto una cosa simile perché link tende a fare ok queste strutture qui poi qua abbiamo fatto così ora non mi stupirebbe se bitcoin raggiungessi 25k secondo me rappresenterebbero il bottom definitivo alcuni si aspettano diciamo sostanzialmente i 20 ma secondo me i 20 sarà difficile ok che li colpiremo proprio per potere psicologico forse su link potremmo avere anche una cosa simile sui 16 dollari ok e successivamente magari ripartire ok questo è quello che mi aspetto su link naturalmente ripartire verso l'alto e magari andare verso i 30 andiamo a parlare per cui anche di uni uniche veramente inarrestabile guardate qui c'è nonostante tutto non vedo rosso su uni quindi uni partita si sta andando a prendere i 14 86 che rappresentavano il suo massimo quindi occhio a uni che sta veramente per passare i suoi massimi e infine alpha finance anche lei non conosce diciamo fine ok questo progetto che avevo già fatto un'analisi quel famoso supporto dei 1 e abbiamo raggiunto i 1 e 24 qua avevo tracciato diciamo un supporto a 1 e 35 che era quella resistenza attuale che avevamo giorni fa e praticamente ci ha fatto da supporto io ora tracciato che andremo verso su le sto seguendo tanto secondo me andremo a passare i due ok anche se bitcoin va verso giù secondo me avrà un rimbalzino io spero fino a 33 magari e dopo che cali anche verso i 25 secondo me alfa si apprezzerà ancora di più questa è un po la mia visione quindi potrebbe anche andare a colpire i 2 dollari non vi dico il target che ho su alfa per i prossimi anni però è molto molto alto per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo iscrivetevi al canale vi lascio un bel like e ci vediamo presto